sera buonasera a tutti vediamo se c'è qualcuno anche eh ci diamo la buonasera intanto vediamo se se c'è qualcuno degli amici presente in questo pomeriggio di febbraio 2021 datemi qualche cenno anche se c'è qualcuno che si collega qualche cenno per sapere se si sente bene sono le 14 e 59 ci sono vedo due persone che si sono connesse vediamo se piano piano adesso cominciano a connettersi un po più di persone intanto fatemi sapere se si sente bene la voce se vedete sentite stiamo comunicando in maniera sufficientemente udibile si sente bene mi dicono bene 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 buonasera luigia buonasera alberto nadia bene molto bene state maria vittoria speriamo che oggi maria vittoria senta bene guglielmo roberta buonasera a tutti da una dario daniela alessia audio e video perfetti ma meravigliosa una volta tanto rosi bene come solito ci prendiamo un paio di minuti per permettere ancora ad altri amici di finire di collegarsi giovi carmela io non sento bene e qui sentono tutti bene che come si fa sarà moscato buon pomeriggio ma sarà poi c'è maurizio mena bene saluto a tutti bene mi fa piacere giovi dice che si sente bene non che si sente bene giovi dice che lei sente bene la mia voce poi forse si sente pure bene ok diamoci giusto un minuto ancora e poi iniziamo allora dora buongiorno dora serena devo dire una certa prevalenza femminile e quindi subito adriano è entrato per cercare di pareggiare riequilibrare le sorti di questo gruppo di ascolto rita ok dunque intanto ricordiamo che stiamo leggendo l'insegnamento dei maestri del cerchio firenze 77 da dal libro dai mondi invisibili che il primo il primo volume di insegnamento del cerchio firenze 77 lo stiamo leggendo da pagina 197 e siamo dunque dario dice ma nel nostro immaginario il super uomo citato nei testi cosa potrebbe essere super uomo citato nei testi è molto semplicemente colui che ha concluso il suo percorso da da uomo da uomo cioè incarnato con un corpo un corpo fisico ciao nicola e guglielmo linda quindi ha concluso questo concluso questo percorso da uomo e fa un altro genere di esperienze che viene dai maestri descritto più avanti nell'insegnamento che tipo di esperienza l'essere svolge una volta che ha lasciato la successione delle incarnazioni in quello che noi chiamiamo il manifestato abbiamo approfondito un pochino approfondito proprio no ma insomma descritto nei primi capitoli di questo volume che stiamo leggendo quindi super uomo non significa qualche cosa che fa riferimento a certe concezioni filosofiche del super uomo cioè non è un uomo speciale un uomo con caratteristiche speciali ma non è più un uomo non è più un uomo perché non si incarna più fa più l'esperienza della dualità come la facciamo noi che la facciamo in maniera in cui è presente il senso di separatività di cui abbiamo già più volte parlato ovvero un io che si sente separato da tutto quanto lo circonda serena energia femminile propensa all'ascolto accoglienza del maschile a fare concretamente anche se può essere dunque noi abbiamo letto la volta scorsa ci siamo soffermati su un aspetto piuttosto complesso abbiamo ci siamo soffermati sulla sulla manifestazione su come è fatta questa manifestazione ricorderete che per chi di voi si è dedicato a rileggere quello che avevamo considerato la volta scorsa ci siamo soffermati sul logos sul logos vedendo che il logos è proprio il primo alito della manifestazione e i maestri hanno cercato di spiegare cosa fosse questo logos e come in che modo iniziasse questa manifestazione una cosa che bisogna sempre tenere presente quando si parla di manifestazione parliamo di qualche cosa che noi sperimentiamo appunto come uomini incarnati in una condizione in cui viviamo dentro un mondo cioè sperimentiamo una realtà fisica la sperimentiamo avendo come dotazione uno strumento che il corpo fisico che ci consente di fare proprio questo tipo di esperienza nel momento in cui noi volta trapassati molto trapassati ci lasciamo questo corpo fisico diventano vengono in primo piano i sensi del veicolo astrale che sono già attivi anche adesso perché noi sperimentiamo per esempio le sensazioni che ci vengono direttamente dal corpo astrale le sperimentiamo attraverso il corpo fisico quindi corpo mentale i nostri pensieri che noi stiamo utilizzando e corpo astrale sono tuttora attivi ma abbiamo in primo piano particolarmente attivi i sensi del corpo fisico e quello che ci consentono questi sensi del corpo fisico è una esperienza di tipo fisica e perciò ci confrontiamo con il mondo fisico con quello che sta intorno a noi con le sedie su cui stiamo seduti con le librerie con i libri libri che abbiamo in mano adesso sui quali leggiamo no e quindi questa materialità è legata proprio al fatto che ci sono questi sensi fisici perciò questa è la manifestazione come la sperimentiamo ma la la manifestazione è qualcosa di anche più complesso di così più complesso più articolato allora vi devo dire una cosa sto vedendo che lampeggia un pochino non so perché l'avviso che siamo in diretta però allora vi voglio dire non vi sgomentate se per qualche motivo perché so che qua in zona stanno facendo dei lavori se per qualche motivo si abbuia tutto io mi ricollego e ripartiamo da dove siamo arrivati quindi rimanete dove siete perché poi appena possibile riprendiamo la nostra conversazione tranne che invece come spero tutto prosegua tranquillamente quindi funzioni tutto nel modo migliore allora vi stavo dicendo questo della manifestazione perché questo argomento che stiamo trattando è un argomento soprattutto per chi si avvicina inizialmente a cerchio firenze 77 piuttosto ostico ma dovete sempre pensare che la manifestazione quando parliamo di manifestazione bisogna capire che usiamo un linguaggio che è molto limitato per esprimere ciò di cui stiamo parlando perché la manifestazione non va intesa così come la sperimentiamo noi cioè come essere immersi nel tempo e fare una serie di esperienze scivolando insieme al tempo scorrendo dentro un tempo che pare essere oggettivo e noi che ci passiamo dentro no come se il tempo scorresse e noi dentro il tempo a vederlo scorrere no non è così questo lo sappiamo già perché la nostra fisica ormai lo sa da tantissimo ormai davvero veramente dalla fine dell'ottocento e prima del novecento sono state ribaltate tutte le concezioni newtoniane ma il nostro senso comune ci restituisce un'idea di tempo esattamente come quella che descriveva newton cioè esiste il tempo e noi immersi dentro il tempo il senso comune della nostra esperienza ci fa ci dà l'idea che le cose stiano così ma non è così il quando parliamo di manifestazione leggendo i maestri del cerchio firenze 77 dobbiamo pensare questa manifestazione come qualche cosa che è vibrante di vita e immobile al tempo stesso in una condizione non temporale dove non c'è il tempo per cui qualche cosa che è vivo vitale come noi ci sentiamo vivi e vitali in questo momento ma senza che scorra un tempo quindi attimo per attimo sempre così pulsante vibrante in una condizione che i maestri hanno definito di eterno presente quando parliamo di manifestazione stiamo già utilizzando una parola che ci fa pensare a quel qualcosa che diventa che si trasforma che cambia la manifestazione pare essere qualche cosa che prende vita poi va avanti nel tempo si trasforma si sviluppa e via dicendo ecco in senso logico è esattamente così cioè ogni attimo che in una condizione non temporale e che noi sperimentiamo appunto attimo per attimo ogni attimo è collegato in maniera logica e quindi con un senso di costante ampliamento di esperienza all'attimo successivo noi sperimentiamo attimo per attimo della nostra vita quindi non abbiamo la possibilità di accorgerci che gli attimi appena vissuti sono sempre lì viventi come noi li abbiamo vissuti e non ci possiamo accorgere che quelli che ancora non abbiamo sperimentato direttamente già ci sono e sono lì già viventi palpitanti è come una forma di consapevolezza che che scorre in questo non tempo e che consegna a noi che ci giriamo verso quello che riteniamo essere il nostro passato ci giriamo e vediamo un continuo ma qualche cosa che continua che non si è mai interrotto ma tutto questo è in una condizione di non tempo a temporale e quindi quando usiamo termini come manifestazione come divenire in questo senso dobbiamo sapere che già ricordarci in che condizioni siamo nella condizione di eterno presente quindi tutte le cose che leggeremo adesso che andremo a leggere adesso che io leggerò con molta lentezza perché sono molto vanno colte un po all'inizio un po difficile per chi non ha questa familiarità con i concetti dei maestri però è proprio per entrarci dentro poi piano piano diventeranno familiari ecco questa tutte le cose che leggeremo adesso vanno considerate in questo senso perciò quando diremo un cosmo inizia si sviluppa e finisce non è come guardare una stella in cielo e sapere che è nata che prima non c'era che manda luce per alcuni miliardi di anni e poi si spenge non c'è più è così così come il cosmo che inizia non vuol dire che è iniziato nella notte dei tempi è continuato fino ad oggi e un giorno finirà non in questo senso è qualche cosa che permane perciò l'inizio e la fine sono da considerarsi come l'inizio logico e la fine logica questo libro che stiamo leggendo ha un inizio che è la prima pagina e ha una fine che l'ultima pagina quando avremo letto tutto il libro tutto quanto il libro noi avremo scorso il libro ma il libro c'è sempre se ricominciamo la prima pagina la troviamo è sempre lì così come l'ultima in questo senso noi dobbiamo intendere le cose che andremo a leggere adesso ok quindi tutto a posto allora voi ricordate che cosa abbiamo letto l'ultima volta leggo l'ultimo rigo di pagina 196 dove dice il maestro eccoci alla trinità riconosciuta da ogni essere illuminato se inizio di pagina 197 se questo punto è centro ideale del cosmo che nascerà anche qui vedete all'inizio i maestri dovevano per forza venire incontro alle persone con cui parlavano quindi usano i termini come qualche cosa che sta in un futuro ancora da raggiungere tenete però presente quello che vi ho detto fino adesso allora se questo punto è il centro ideale del cosmo che nascerà questo non vuol dire che il cosmo sia nato proprio per quello che vi stavo dicendo è gettata la prima la pietra miliare gettato il cardine su cui si svolgerà tutto il cosmo ma il cosmo deve ancora manifestarsi in senso logico cioè andiamo in un punto iniziale del cosmo quando io ho il libro chiuso lo devo ancora aprire dico ancora l'inizio del libro non è arrivato ma è qui e dentro il libro c'è sempre è già già lì presente com'è che si manifesta dice il maestro interviene un cambiamento una successiva nel senso logico manifestazione creato il centro del cosmo si manifesta quella che deve essere circonferenza cioè la delimitazione dello spazio ambiente la trinità la triplice manifestazione dell'assoluto centro e circonferenza allora lui che cosa dice il maestro qui com'è che a un certo punto si manifesta questo cosmo com'è che prende vita questo cosmo interviene un cambiamento una successiva e qui va sottolineato in senso logico perché se siamo in una condizione fuori dal tempo c'è già tutto ma andando avanti nella lettura del cosmo noi vediamo che c'è una cosa che viene prima è una cosa che viene dopo questa che viene dopo e questa successiva manifestazione e cioè prima si forma un centro di questo cosmo si manifesta poi quella che deve essere la circonferenza del cosmo cioè quello spazio ambiente che è lo spazio ambiente in cui avviene la manifestazione per esempio volendo soffermarci alla nostra semplice piccola manifestazione di esseri umani lo spazio ambiente che si genera per la nostra esperienza e l'ambiente fisico nel quale noi ci muoviamo e quindi casa nostra il mondo nostra città il mondo come lo conosciamo quindi creato il centro del cosmo si manifesta quella che deve essere circonferenza cioè la delimitazione dello spazio ambiente è definito trinità la triplice manifestazione dell'assoluto centro e circonferenza 33 che sono uno nell'uno queste sono formule che sembrano un po esoteriche nell'uno vi è la causa del due e del tre ovviamente se non esistesse l'uno il due e il tre è di conseguenza nel due vi è l'uno e vi è la causa del tre nel tre vi è l'uno e vi è il due l'uno procede dall'altro ma in definitiva non sono che il triplice aspetto di una stessa cosa una successione la quale ha solo valore logico non cronologico capite quindi questo 1 2 3 come li definisce lui è una successione logica una successione numerica non è una successione cronologica prima si manifesta l'uno poi si manifesta il due poi si manifesta il tre no se noi andiamo a vedere la manifestazione nel suo insieme abbiamo sia l'uno che il due e tre perché sono semplicemente degli aspetti della stessa cosa non sono tre cose diverse ma a seconda di dove noi portiamo la nostra consapevolezza la nostra attenzione incontriamo l'uno incontriamo due incontriamo tre proprio come se fosse possibile in qualche modo distinguerli ma li distinguiamo a seconda della dello strumento con il quale li guardiamo per esempio se voi guardate che ne so una su una piastrina con un microscopio e voi vedete che quella goccia che noi ci abbiamo messo sopra che per noi è solo una goccia e quindi è quello andiamo ad approfondire con un microscopio e vediamo che quella goccia è fatta di altre cose la goccia in un certo senso scompare e appaiono altre cose ma noi prendiamo poi un microscopio di quelli specialissimi che usano i ricercatori e tutte quelle cose che avevamo visto con il primo microscopio scompaiono e compare tutto un altro mondo eppure se vediamo gli occhi dal microscopio lì c'è una goccia quindi sono tutti compenetrati l'uno nell'altro uno fa parte dell'altro la goccia non può esistere senza tutti gli elementi che che la compongono e quegli elementi che la compongono non possono esistere se non ci sono gli altri elementi ancora più sottili che compongono quelli e via via quindi è tutto compenetrato non si può distinguere l'uno dall'altro dipende su quale livello noi ci soffermiamo ad osservare e qui ci stiamo come dire concentrando su una cosa analoga che riguarda come è fatto un cosmo l'uno procede dall'altro ma in definitiva non sono che il triplice aspetto di una stessa cosa una successione la quale ha solo valore logico non cronologico il centro ideale del cosmo che si sta manifestando e la delimitazione di questo cosmo sono aspetti della stessa cosa nel primo aspetto vi sono gli altri due aspetti cioè la causa della loro manifestazione infatti se non vi fossero gli altri due aspetti che si manifestano non potrebbe esistere un primo aspetto questa trinità deve essere vista non come una somma ma come un'identica cosa avente tre aspetti che noi osserviamo in tre momenti in tre densità diverse della sua manifestazione il primo aspetto del logos è la radice dell'essere o lo spirito ecco questo è il punto di partenza diciamo abbiamo lo spirito lo spirito è da dove si parte per la manifestazione del logos da dove si parte si parte dallo spirito il secondo aspetto è la dualità primordiale viene chiamata così questa dualità primordia primordiale della dualità noi facciamo esperienza continuamente noi esseri incarnati facciamo esperienza costantemente della dualità perché siamo costantemente un io che si confronta con tutto ciò che lo circonda cioè con il non io io non io sono due cose è già la dualità per noi è normale confrontarsi con la dualità quindi la dovremmo poter capire questa cosa allora c'è un primo aspetto c'è un primo livello in cui noi indaghiamo cerchiamo di capire come si manifesta questo logos e come si dà vita al cosmo questo primo aspetto è lo spirito da lì si parte perché nasce qualche cosa che è duale in che modo allora voi immaginate voglio farvi un esempio così prendo questo questo foglietto di carta ecco quasi quasi due che si vede così allora se voi immaginate questo foglietto qua di carta voi vedete che tutto uguale a se stesso non c'è non c'è un punto in qualche modo che si possa distinguere ora voi immaginate di fare su questo foglietto di carta un punto questo punto va bene allora se voi vedete questo punto che che prima non c'era se voi vedete questo punto esistono già due cose nel momento in cui c'è un punto esiste il punto e il non punto cioè esiste tutto quello che sta intorno al punto tutto il resto del bianco che c'è intorno capite questa è già la dualità adesso voi immaginate nel foglio completamente bianco e nel foglio completamente bianco immaginate di vederlo questo punto ma non che vi sia realmente però immaginate di vederlo e allora voi sapete che cos'è questa dualità in qualche modo virtuale che frutto del sentirsi punto dentro qualche cosa che non appunti è proprio come un sentirsi punto che non ha a che vedere con ciò che è realmente perché nella realtà voi sapete che l'assoluto è un tutto uno è tutto assoluto allora in questo foglio bianco immaginate un punto nel momento in cui voi immaginate il punto esiste il punto e il resto del bianco e lì c'è la dualità qui viene chiamata questa dualità viene chiamata la dualità primordiale che sta proprio all'inizio di questa esperienza cioè è come se il cosmo per costituirsi per dar vita a questa forma di coscienza che si basa su questo a esperienza della dualità dovesse immaginare un punto distinto da tutto il resto che c'è mi soffermo solo un attimo la trinità è l'assoluto il centro del cosmo e la circonferenza ci stiamo arrivando un'arancia c'è il seme la polpa la buccia ma tutto è un'arancia può essere un esempio certo certo allora tenete presente questo no che questa dualità primordiale è proprio questa sensazione di essere separato da tutto quanto ci circonda lo circonda la duplice polarità su cui si intesse tutto l'universo l'universo inteso come lo spazio del cosmo ricordiamoci che siamo alle prime lezioni qua quindi si va con cautela tale dualità e la madre di tutte le forme ovvero solo ciò che ha forma sperimenta la dualità prima c'era qualcuno che parna via parlava di un'arancia un'arancia a una forma noi vediamo l'arancia perché possiamo vedere l'arancia perché la possiamo distinguere da tutto ciò che sta intorno all'arancia capite e così qualsiasi altra forma qualsiasi cosa abbia una forma si distingue da tutto il resto che non ha quella forma per cui esiste quella forma e poi tutto il resto questa è la dualità la quale noi ci confrontiamo costantemente quindi è chiamato dice il maestro la duplice polarità su cui si intesse tutto l'universo noi possiamo su qualsiasi forma noi posiamo gli occhi la possiamo vedere perché guardiamo la distinguiamo rispetto a tutto il resto della circonda noi viviamo costantemente di questa esperienza duale della nostra vita quale tale dualità e dice il maestro madre di tutte le forme il terzo aspetto quindi abbiamo detto il primo aspetto del logos è la radice dell'essere cioè lo spirito il foglio bianco che è uguale in ogni sua parte il secondo aspetto è questa dualità il terzo aspetto è quella che qui viene definita la mente universale depositaria di tutte le forme sorgente di ogni energia formatrice infatti dalla mente procede l'energia e la materia e qui se vi ricordate le prime proprio i primi capitoletti che abbiamo letto di questo volume di questo libro che stiamo leggendo ci spiegava come noi siamo costituiti di un corpo fisico un corpo astrale un corpo mentale che questo è ciò che fa parte della manifestazione che nella manifestazione è questo che noi abbiamo ciò con cui abbiamo a che fare materia che procede dalla dimensione spirituale della coscienza si condensa a livello della del piano mentale e si costituisce il corpo mentale una ulteriore condensazione del corpo mentale degli elementi che costituiscono il corpo mentale da vita un corpo astrale quella condensazione degli elementi che danno vita al corpo astrale da vita la materia fisica ma tutto è tutto fa parte della stessa cosa è una in qualche modo una distinzione che noi cerchiamo di fare di questa immagine per cercare di capire le distinguiamo in tre corpi distinti in tre piani di esistenza distinti solo per comprendere ma è tutto compenetrato e convivente nello stesso momento nello stesso istante la stessa vita ecco dice il maestro la successione logica della manifestazione manifestato il centro di gravitazione si manifesta quella che noi abbiamo chiamato la dualità la quale è orditura stessa del cosmo cioè tutto il cosmo è ordito in questo modo basato sulla dualità orditura stessa del cosmo leggi stesse del cosmo cioè si fondano su questa caratteristica della dualità qualcosa che regga e regoli il cosmo quindi hanno la dualità è proprio ciò che sostiene il cosmo nell'esperienza così come la facciamo noi noi non possiamo fare un'esperienza diversa da questa della dualità quindi qualcosa che regga e regoli il cosmo manifestazione del terzo aspetto dell'assoluto qualcosa che sia regolato e retto dalla dualità regolato e retto vuol dire che c'è qualche cosa che prende una forma prende per esempio la forma del pensiero ecco la mente prende per esempio la forma di un desiderio di un sentimento di una sensazione ecco l'astrale prende ad esempio la forma di un corpo fisico o di un mondo fisico percepito fisico quindi manifestazione del terzo aspetto dell'assoluto qualcosa che sia regolato e retto da questa dualità cioè la dualità fa da fondamento da legge da regolatore di tutto quello che noi sperimentiamo nel cosmo come realtà la quale dualità trova fondamento nell'unità o centro ideale del cosmo e quindi trova fondamento nello spirito lì che si è nuclea il punto focale del cosmo da cui poi si sviluppa tutto il resto la scienza definisce energia ciò che attraverso ad un agente intermedio o ad una trasformazione o una macchina può produrre lavoro questa è la definizione che la scienza da di energia per noi maestri energia pura è materia del piano astrale quindi quella che noi pensiamo come energia nella nostra realtà fisica l'energia secondo le nostre guide è materia del piano astrale ovvero ciò che si ottiene dalla disintegrazione della più elementare materia fisica voi vi ricordate io spero che lo abbiate un po studiato un po letto nei primi capitoli che abbiamo letto questo aspetto cioè che quando si disintegra la materia fisica si disintegra nel senso che si va sempre nel più piccolo a un certo punto incontriamo il limite del mondo fisico quando superiamo il limite del mondo fisico entriamo nel mondo astrale dove c'è materia astrale che è ancora più sottile di quella fisica voi vi ricorderete io sono convinto che vi ricorderete le suddivisioni della materia della densità della materia le sette suddivisioni per ogni piano ci sono prima di qualche capitoletto prima ci sono dei grafici su questo volume che vi danno questa queste indicazioni ogni piano di esistenza differisce dagli altri non per una diversa ubicazione nell'universo quando noi si dice che una persona trapassa per esempio non è che va a stare da un'altra parte o come insegnano alcune religioni per esempio indiani d'america di una volta non so quelli moderni ma quelli di una volta dicevano che andavano presso manito e andavano in queste verdi praterie del loro paradiso no cioè si spostavano dove stavano andavano da un'altra parte ecco maestri ci dicano no non succede questo quando uno lascia il suo corpo fisico qua ed è attivo nel suo corpo astrale presente il suo corpo astrale non è in un altrove è solo che c'è una diversa sottigliezza del del suo corpo e della materia con cui si confronta per cui non può avere relazione diretta con il piano immediatamente più grossolano che quello fisico però non si sposta non va in un altrove perché non ci sono gli altrove i luoghi sono quelli che sperimenta l'anima attraverso gli strumenti di cui è dotata per vivere quella particolare esperienza per cui noi viviamo questa realtà fisica perché abbiamo un corpo fisico nostra coscienza in questo momento è attiva nel con nella nella dimensione della materia fisica appena si sottrae questa vita dal corpo fisico siamo vivi sempre dove eravamo ma in un'altra sottigliezza in un'altra sottigliezza di materia quindi ogni piano di esistenza differisce dagli altri non per una diversa ubicazione nell'universo ma per la diversa natura della materia che lo costituisce tutti i piani esistono nello stesso spazio e ciascuno comprende 7 sottigliezze o densità di materia questo l'abbiamo già incontrato ciò vuol dire che la materia elementare di ogni piano si può aggregare e divenire complessa in ragione di 7 accostamenti 4 e 3 un pochino ci addentriamo ma non più di tanto anzi una parte la salteremo perché vi converrà a leggerla con calma piano piano soffermandovi per capire chi è interessato a questi aspetti della costituzione delle varie materie delle varie sottigliezze e via dicendo non è molto molto lungo però per capire un po di che cosa si tratta questa lettura io ve la suggerisco allora ripeto ciò vuol dire che la materia elementare di ogni piano cioè la materia di base di ogni piano si può aggregare e divenire complessa in ragione di 7 accostamenti 4 nelle sottigliezze della materia e 3 sono nelle densità della materia quindi oltre 7 aggregazioni si ha l'equilibrio e il generarsi di un'altra materia per cui se c'è un'aggregazione che ne so della materia astrale in quattro componenti poi in una minore o maggiore densità questa aggregazione rimane materia del corpo mentale e del piano mentale fin quando non c'è una successiva aggregazione che la fa diventare troppo densa per appartenere al piano mentale e quindi ecco che compare il piano astrale e quell'ultima diciamo quella più grossolana del piano mentale diventerà la prima materia del piano astrale la stessa cosa per il piano astrale l'ultima del piano astrale quella più grossolana si prepara diventa la prima elementare del piano fisico e poi vi sono le aggregazioni materiale piano fisico e lì siamo arrivati finisce lì il tipo di aggregazione ma si parte sempre dovete pensare sempre che la partenza e lo spirito si parte dallo spirito vi sono le aggregazioni sempre le sempre maggiore intensità di materie che danno vita a seconda di dove noi ci si sofferma a guardare alla densità che riguarda alla materia che riguarda il piano mentale la materia che riguarda il piano astrale o la materia del piano fisico da dove noi si pone la nostra attenzione ma è un tutt'uno non è qualche cosa di separato le prime mi sono un po perso dove le aggregazioni per ciascuna materia di ogni piano sono sette in dipendenza di una legge fondamentale cosmica cioè ogni cosmo che si forma a voi sapete primo alito questo logos che da vita a un modulo genera un modulo fondamentale che sono le leggi di quel cosmo in base a quelle leggi questo cosmo prende che si forma in un certo con una certa modalità le prime quattro aggregazioni ad esempio del piano fisico l'eterico il super eterico sotto atomico atomico queste sono le quattro aggregazioni che che ci indicano le nostre guide eterico super eterico sotto atomico atomico differiscono dalle seconde tre in quanto le une si creano per assommarsi di unità elementari cioè c'è una elementare elementare l'assommarsi di queste unità elementari fa le fa essere appartenere a un livello di aggregazione livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 che è quello dove c'è più più aggregazione di queste unità elementari le altre sono il solido liquido gassoso che noi conosciamo che si determinano dalla più o meno stretta coesione che c'è fra atto che dato quindi è tutto la stessa cosa l'acqua noi la vediamo o a livello di vapore quella è acqua o a livello fisico così come la vediamo noi proprio di acqua liquida e quindi un liquido oppure quando nel freezer diventa ghiaccio che è solido quindi abbiamo il gas liquido e il solido della stessa cosa acqua e l'acqua non è altro che noi sappiamo dal nostro punto di vista per quello che ci dice la nostra chimica che è h2o e quindi questi elementi di base l'idrogeno e l'ossigeno combinati in un certo modo danno vita a questa sostanza che noi chiamiamo acqua e che può avere queste diverse condizioni di densità a rigore potremmo dire che gli elementi chimici della materia fisica possono esistere indifferentemente nei tre stati di aggregazione molecolare solido liquido gassoso purché si trovi la giusta temperatura che li fa vaporizzare liquefare o solidificare e questo a scuola abbiamo imparato tutti così l'acqua liquido differisce dal ghiaccio solo per una questione di temperatura mentre un elettrone differisce da un protone per il numero di particelle elementari che costituiscono sia l'uno che l'altro cioè protone ed elettrone hanno un numero differente di particelle e quindi c'è una differenza di aggregazione fra di loro e quindi questo lo fa appartenere a un livello di aggregazione l'uno è un altro livello di aggregazione l'altro allora voglio 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 rendere allora facciamo così vi leggo ancora qualche cosa da questa parte qua del libro poi dopo quando si entra un po troppo dentro le cose che invece ritengo utili che dovreste leggere per conto vostro e poi fare domande la prossima volta mi raccomando di quale lettura si tratta come di valore stiamo leggendo dai mondi invisibili la pagina 198 adesso ed è il cerchio firenze 77 il primo libro del cerchio firenze 77 dove posso trovare le elezioni precedenti dottor ruggini beh su focus ma te lo spiegheranno meglio qua loro sanno tutto questa da questa domanda avrai chiare risposte allora la scienza dice il maestro scoprendo che disintegrando l'atomo si produce energia ha avvalorato la tesi cioè che alla base della materia via via energia ma nella disintegrazione atomica non si osservano altro che le trasformazioni dell'energia sprigionatasi quali ad esempio la luce e il calore il calore in effetti è una vibrazione degli atomi che compongono la materia la diversa conduttività del calore dipende dalla singola capacità delle materie di trasmettere da proprio atomo a proprio atomo queste vibrazioni la luce è invece una vibrazione non degli atomi ma dei corpuscoli che compongono gli atomi qui vedete noi dobbiamo pensare che i maestri quando ora questa come dire una sintesi di percorsi che i maestri hanno fatto per tanti anni con questo gruppo di persone che non avevano internet su cui si possono informare oggi tutti ci possiamo informare velocemente su internet ma allora non c'era questo stiamo parlando degli anni 50 anni 60 70 insomma sono anni in cui queste persone avevano curiosità e i maestri si sono molto hanno spiegato molte cose che riguardano la fisica e la chimica così come la conosciamo noi illuminando su alcune lacune che la nostra scienza ancora oggi ha e sono state lezioni lunghe appassionate per chi è interessato a questi temi qui noi abbiamo ci danno alcune indicazioni per farci capire come funzionano alcune cose che noi vediamo per esempio qui dice poiché l'energia liberando si mette in vibrazione la materia fisica circostante noi possiamo dire che l'energia è essenza del movimento ma di quale movimento chiede il maestro non certo del moto assoluto l'energia o materia del piano astrale è l'essenza del movimento della materia del piano fisico tutto ciò che si muove nel piano fisico attinge l'energia per compiere col movimento dal piano astrale enunciamo ciò in principio generale dice il maestro sto leggendo al secondo capoverso di pagina 199 l'essenza del movimento intrinseco della materia di ciascun piano è sempre nella materia del piano precedente per sottigliezza questa è una regola che non è indispensabile che la troviate ma è molto utile per capire come funziona come si compenetrano fra di loro questi corpi da dove prende l'energia il corpo astrale per i suoi movimenti per ciò che fa da dove prende l'energia il corpo fisico da dove da dove si muove com'è che un corpo fisico è animato no come animato che vuol dire contenere un'anima e vivere dove prende questa vitalità la prende questa energia che muove il corpo fisico la prende dal corpo astrale dal dalla materia astrale ma dove sta questa materia astrale dovunque dovunque noi siamo impregnati di materia astrale abbiamo quello che per intendersi abbiamo definito un corpo astrale così come abbiamo un corpo mentale sono tutti compenetrati uno dentro l'altro perché le cellule del corpo fisico hanno in sé un motore di energia che le fa essere vive e attive in maniera molto specifica per ciò che devono fare nel corpo di un uomo quell'energia arriva da ciò che sta all'interno di quelle cellule non è che da un altrove c'è uno spinotto che entra dentro e da energie come per ricaricare le macchine moderne che vanno a elettricità no è tutto all'interno di noi così come all'interno di noi nelle sottigliezze della materia del corpo astrale l'energia per la vita di quei componenti del corpo astrale viene presa dal piano mentale e quindi l'energia è procede dal corpo mentale c'è un punto che volevo forse fatemi vedere perché importante ah no vi ho spiegato vi ho parlato prima della trinità il centro di gravitazione ecco mente energia materia questo è chiamato ecco da distinguiamo questa è una definizione che poi tornerà più avanti ve la voglio fissare dentro e questa questa parte qui è chiamata trialità mente energie mente la mente l'energia la materia proprio fisico oppure dimensione mentale dimensione astrale dimensione fisica questa è la trialità la trialità è proprio questo terzo aspetto dell'assoluto dalla mente procede l'energia e la materia allora direi a questo punto riprendo la lettura da dove vi ho lasciato poco fa quindi terzo capoverso di pagina 199 nel piano fisico ad esempio pensate i venti sono causati dalle diverse temperature dei gas che sono in certe zone dell'atmosfera ma poiché il calore è un'applicazione di energia alla materia calore sia perché alla materia si applica dell'energia voi basta che pensate che quando vi mettete a correre cominciate ad avere caldo quindi spendete energia e si genera calore poiché il calore è un'applicazione di energia alla materia noi possiamo dire che qualunque moto di materia fisica sia esso spostamento o vibrazione è sempre causato dall'energia e denunciando ciò in principio generale qualunque movimento delle materie di un piano è sempre alimentato dalla materia del piano precedente per sottigliezza in modo analogo qualunque impulso che il corpo fisico può avere prima per esistere poi per attuarsi in azione deve essere sempre alimentato dal corpo astrale come dire che non può esistere un corpo fisico senza il suo corpo astrale e così di ogni corpo a quel piano che l'individuo per propria evoluzione ha raggiunto come livello di esistenza individuale abbiamo però sempre detto che ogni sollecitazione è doppia ricordate primi capitoli l'una proviene dall'esterno l'altra dall'interno se ciò non fosse l'evoluzione non sarebbe possibile perché è proprio in virtù della collisione delle due sollecitazioni che il livello di esistenza si sposta al piano superiore non solo ma se non vi fosse la possibilità di spinte dall'esterno o dal più grossolano al sottile la disintegrazione della materia non sarebbe attuabile l'integrazione della materia significa abbandonare una condizione per entrare in un'altra condizione di materia più sottile lasciare il corpo fisico per entrare in contatto con la dimensione astrale lasciare a dimensione astrale il corpo astrale per entrare in contatto con la dimensione del corpo mentale e via e via il corpo a casi per quello che abbiamo già imparato allora qui si entra un po più nel particolare del delle materie per cui vi leggo solo la ricapitolazione che fanno i maestri a pagina 201 al secondo capoverso pagina 201 si dice ricapitoliamo ancora partiamo questa volta da ciò che gli occhi vedono dalle innumerevoli materie fisiche guardiamo intorno a noi vediamo veramente che abbiamo non so cosa vedete voi intorno a voi ma c'è c'è di tutto di tutto di tutto è un'esperienza straordinaria incredibile quella della vita i nostri occhi vedono le innumerevoli materie fisiche il chimico chimico cosa dice ci dice che queste sono sostanze le sostanze sono la combinazione di elementi che noi vediamo un bel cassettone o bello brutto che sia comunque fatto di legno legno una sostanza la sostanza legno è fatta di combinazione di elementi gli elementi si differenziano gli uni dagli altri da un diverso numero di particelle elementari che stanno in seno stanno dentro agli atomi che compongono gli elementi stessi queste particelle noi le abbiamo nomenclate cioè le abbiamo dato un nome e abbiamo detto che sono i nuclei i corpuscoli le particelle e alla base di tutto l'unità elementare nel piano fisico cioè ricordate quella quelle quattro più tre diverse aggregazioni di materie alla base dell'esperienza del piano fisico sta un'unità elementare del piano fisico la successiva aggregazione l'aggregazione in senso numerico di queste particelle danno vita a aggregazioni diverse che costituiscono i vari quelli che abbiamo letto adesso nuclei corpuscoli partice al contrario anzi particelle corpuscoli nuclei sono alla base di tutto stanno le unità elementari del piano fisico quindi dice maestro fino ad ora abbiamo visto che le innumerevoli materie fisiche diverse scaturiscono tutte tutte da una unità elementare da un'unica unità elementare del piano fisico e che ai primi quattro tipi di materie elementare cioè unità elementare abbiamo detto particelle corpuscoli e nuclei corrispondono quattro densità di materie dopodiché abbiamo la densità come la conosciamo noi solido liquido gassoso e sono 77 per ogni piano e qui sono ben ben spiegate queste unità queste sette divisioni delle materie vorrei arrivare qua dove si dove si parla del tempo e vorrei concludere oggi con questa con questa parte qua che riguarda il tempo cioè salto direttamente a pagina 206 ma voi non non le saltate queste pagine anche se non le capite subito però avete almeno un quadro di riferimento per capire un po come sono fatte queste nostre realtà come è fatta tenete presente che è tutto compenetrato che tutto fa parte della stessa cosa come il piano fisico è tutto quanto costituito da unità elementare che si aggrega che costituisce particelle corpuscole nuclei e quindi le densità di materie che conosciamo nello stato solido liquido gassoso come avviene che c'è un'unità elementare questo noi serve per capire come si è generato il cosmo da un unico cosa di partenza che è lo spirito uguale per tutto così come l'unità elementare del corpo fisico del piano fisico del mondo fisico che sperimentiamo parte tutto da quell'unica unità elementare allora qui c'è voglio concludere parlando del tempo perché un pochino abbiamo già accennato questo tempo poi lo approfondiremo via via e a pagina 206 proprio all'inizio si dice ogni piano ha il suo tempo nel piano fisico per prendere un oggetto occorre un tempo corre che la mano si sposti e che questo spostamento occupa un tempo nel piano astrale invece questo cambia molto questo concetto di tempo non esiste più perché non occorre eseguire una serie di movimenti o avere un moto per trovare una persona ma basta un semplice desiderio e quindi l'idea del tempo cambia molto diversa no ma noi il tempo è proprio quello che noi impieghiamo per fare cose e per attuare movimento noi per fare questa diretta abbiamo impiegato circa un'ora del nostro tempo nel nel piano astrale questo non accade cioè non ci dobbiamo spostare da qua a là in questo agente temporale e spaziale basta il desiderio ma questo lo abbiamo già trovato nelle precedenti lezioni nel piano mentale cambia ancora rispetto e al piano astrale e al piano fisico perché basta un pensiero per avere il contatto immediato con l'oggetto di questo pensiero il tempo dice il maestro non esiste laddove è l'eterno presente cioè in dio ricordiamoci che la condizione di eterno presente è nella condizione di esistenza del tutto ogni istante è come fotografato ma non come una fotografia immobile è una fotografia che vibra di vita la vita è composta di innumerevoli attimi ognuno di questi attimi è presente in lui contemporaneamente e separatamente prendetelo così come definizione più avanti avremo modo di approfondire meglio questo dalla nozione di tempo così come state esposta qua si arriva quasi inevitabilmente alla nozione di spazio l'illusione del movimento l'illusione del movimento di una proiezione cinematografica è data dal susseguirsi dei fotogrammi e dalla persistenza delle immagini sulla retina dell'occhio questo vi insegna la vostra scienza in effetti quando noi guardiamo un film e questa persistenza di immagini che scorrono con un certo ritmo dentro alla macchina da proiezione fa sì che noi vediamo una continuità una continuità senza interruzioni in realtà si stanno mettendo d'accordo la nostra retina che fa parte del sistema nervoso centrale con il suo funzionamento con quella ritmo di scansione che viene dato dalla macchina che proietta delle fotografie immobili perché sono immobili dentro la pizza del film e questo genera per noi il movimento e vediamo davanti a noi scorrere un film ed è no vediamo così come vediamo scorrere la vita intorno a noi in realtà la visione di un film è un lavoro mentale perché è un fenomeno che avviene nel veicolo mentale dell'individuo non avviene a livello del cervello e avviene nel veicolo mentale dell'individuo il quale il quale poi manda un segnale che viene decodificato dallo strumento corporeo cioè il nostro cervello se qualcuno vi dicesse che tutto quanto quello che voi vedete attenzione che tutto quello che voi vedete è simile all'illusione accennata voi prendereste quel qualcuno per un pazzo pure considerate in possesso di una visione relativa chiusi in una forma densa voi potreste essere oggetto di una illusione simile a quella del movimento in una proiezione cinematografica in realtà esiste solo l'eterno presente e l'infinita presenza nel piano fisico voi avete coniezione dello spazio perché chiusi in una forma per raggiungerne un'altra una delle due deve spostarsi entro la gente che le separa entro l'aria lo spazio la distanza quello che è nell'astrale è il desiderio o la volontà che possono rendervi presenti laddove desiderate o dove volete nel mentale è il pensiero che vi dà l'immediata sensazione di un reale contatto fra voi e l'oggetto del vostro pensiero nello spirituale al di fuori di ogni limitazione sia coscienza dell'eterno presente e dell'infinita presenza di ognuno e di ogni cosa un oceano si può considerare un insieme di gocce pure ciascuna goccia esiste solo nell'attimo in cui viene prelevata dalla massa dell'oceano e solo allora si può dire che si avvicina o lontana all'oceano allo stesso modo se voi risalite alla radice dell'essere vostro comprendete di essere uno nel tutto e che lo spazio è del piano relativo perché solo lì si ha l'illusione che esso spazio esista come il movimento è una successione di punti il tempo ne è una di attimi in ciascuno dei quali vi è una particolare disposizione degli oggetti del cosmo la vostra mente la vostra mente passando da un attimo all'altro secondo una successione convenzionale con il ricordo crea l'illusione del movimento del cambiamento del tempo rileggetelo questo perché di una chiarezza estrema sconvolgente se volete però poi vedrete come vi saranno tutti i supporti logici per sostenere in maniera inequivocabile quello che viene spiegato qui dalle nostre guide oltre i ritmi i ritmici cicli di manifestazioni cosmiche oltre l'immenso quadro di evoluzione oltre l'eterno divenire degli universi sta il supremo perché di tutto questo sta l'eterno l'infinito l'immortale il perfetto l'assoluto oltre 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 allora adesso mi dedico per qualche momento a vedere un po che cosa è stato chiesto qua cominciando da questa da una delle ultime le unità elementari non sono state ancora scoperte dalla scienza mentre le particelle sono i quark io l'ho letta questa parte più di una volta ma non mi è ancora chiara diciamo che le definizioni della scienza non si sovrappongono a quella alla nomenclatura data dai maestri anche perché l'ultima la materia diciamo di base del corpo del piano fisico è anche la prima dell'altro piano di esistenza no il punto si sovrappongono le due materie quella è la più grossolana della dimensione astrale e l'unità elementare la scienza non ha possibilità di arrivare fino a quella soglia vediamo muscoli si sono gli elettroni ho sbagliato scusate non so che cosi abbiamo un po più su che dove posso trovare questo non ha quindi la trinità e l'assoluto il centro del cosmo e la circonferenza questo abbiamo già risposto vedo che vedo che c'è bisogno ancora di un po di di un qualche momento di riflessione di rilettura per fare vostri questi argomenti che non sono facili lo riconosco ma badate che fare un buon lavoro adesso di preparazione ci permetterà di affrontare fra non moltissimo un libro che ha bisogno di avere queste basi ben consolidate quindi spendete un po del vostro tempo per rileggere e per leggere quelle pagine che io ho saltato solo perché potevano diventare un po pesanti durante una lettura di questo tipo è la descrizione un po più nei particolari di come si suddividono le varie materie i nomi che vengono date a queste non c'è bisogno che impariate queste cose ma che capiate come 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 sono distinte come sono state descritte in queste materie la costituzione di queste materie perché poi tutto questo torna come supporto quando ci avventureremo in cose che hanno bisogno di queste basi perciò buon lavoro io adesso vi saluto vi ringrazio di essere stati qua come oggi e ci rivediamo fra due settimane però la sera alle 21 e 30 io spero che caro amico nicola ferrentino da milano mini mi dica che ho detto bene che è proprio quello che è giusto che ci vedremo proprio alle 21 e 30 fra 15 giorni vediamo 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 ciao angela mi fa piacere leggerti stiamo salutando grazie a tutti ciao maria vittoria chissà se nicola ci dà una conferma forse meri ciao meri confermo è arrivata la conferma ufficiale quindi siamo tranquilli ci vediamo fra due settimane venerdì fra due settimane quindi nel mese ormai di marzo ma alle 21 e 30 un caro saluto a presto a presto